Le auto d'epoca non sono mai state così attuali, Varese si veste della sua più bella livrea e regala l'ennesimo grande successo alla Coppa Trelaghi, Varese Campo dei Fiori arrivato ormai alla sua 28esima edizione. A strappare il trofeo del cronometro elettronico messo in paio dagli organizzatori del club Asia Automoto Storiche Varese, l'accoppiata milanese Mauro Bonfante e Cinzia Bruno su una Fiat 1100 che arriva direttamente dal 1956. Non ce l'hanno fatta per un soffio invece Gianmario Fontanella e Anna Covelli, già quattro volte vincitori nella città Giardino sulla Lancia Lambda del 1927, mentre sul terzo gradino del poggio si sono piazzati i varesini Roberto Boracco e Angela Bossi su Porsche 911 del 1973. Anche il tempo ha battuto le sue lancette d'epoca, per il campionato tricolore Asi governato dai cipollotti meccanici hanno trionfato Alberto Pirri e Annalisa Ciatti su Lancia Fulbia Coupé 1200, battendo il carnagese Bassani su Abra 750 GT Zagato e il romano Silvio Trombetta su Porsche 912. A far strabuzzare gli occhi si è presentata anche la macchina a vapore, il trattore Landini Testa Calda anni 30, l'auto di Troide elettrica del 1890 e delle prime auto Renault. La Tab G2 No dotata di motore a scoppio è datata a 1902, un'edizione più ricca e antica che mai.